Buongiorno e bentrovati a mattino 6. Oggi, venerdì 6 novembre, si venera tra gli altri San Leonardo. San Leonardo, conosciuto anche come San Leonardo Abate, Eremita, è stato un abate francese che visse da Eremita gran parte della vita. Nel Medioevo fu uno dei santi più venerati in Europa. Leonardo nacque in Gallia da una famiglia di nobili francesi, abbandona la corte con suo fratello Lifardo e si ritira per qualche tempo presso un monastero. divenuto diacono, qui avrebbe compiuto il suo primo miracolo trasformando l'acqua in vino. Ebbe tanti seguaci e la fama della sua santità arrivò fino al re che ne chiese l'intervento quando la regina, Clotilde, transitando in quella zona fu sorpresa dalle doglie del parto. L'intervento di Leonardo lenì i dolori della regina che poteva dare alla luce il suo bambino. Il re per riconoscenza gli concesse la parte di un bosco. Qui Leonardo edificò un oratorio intitolato La Vergine. Secondo la leggenda devozionale, fece nel bosco un buco in terra che si riempì miracolosamente d'acqua, dando origine ad un pozzo nominato in ricordo della donazione regale. Da qui prese il nome anche la cittadina che si andò formando attorno al monastero. La tradizione vuole che il santo sia morto la sera del 6 novembre, ma manca una datazione precisa dell'anno che dovrebbe attestarsi intorno alla metà del VI secolo e fu inumato nell'oratorio che aveva fondato. L'oratorio con le spoglie di Leonardo divenne ben presto una famosa meta di pellegrinaggio di fedeli. San Leonardo divenne così uno dei santi più popolari nell'Europa medievale e spesso rappresentato con delle catene per la sua particolare protezione degli imprigionati o carcerati ingiustamente. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo sul sito ilcorriere.it. Vediamo oggi come apre il Corriere della Sera, la proposta della riforma, pensioni, la proposta dell'Inps per tagliare quelle più alte, nonno del governo, inattuabile. Ed ancora la tragedia del volo, il Sina e Obama, possibile bomba, voli a terra, caos per i turisti e per quanto riguarda lo sport, MotoGP, Valentino Rossi, il TAS respinge il ricorso, partirà ultimo, deluso, chance negata, ha detto il campione. Vacanze, stato di emergenza alle Maldive, resort sicuri, evitare la capitale. Il governo maldiviano rassicura nessun pericolo per i turisti, ma dopo il ritrovamento di forti quantità di armi ed esplosivi, dà maggiori poteri alla polizia. La manifestazione blocca Italia, Berlusconi dice sì a Salvini, Sarò a Bologna, con la Lega, l'ex premier scioglie la riserva, elettori ci chiedono unità del centrodestra. L'8 novembre sarà in piazza a Bologna per il blocca Italia, manifestazione organizzata dal Carroccio contro il governo. Il ministro Pinotti, Iraq e Isis, l'Italia farà la sua parte, l'incontro nella sede del giornale del Corriere appunto. Mafia capitale, via alle udienze, chiesto processo per Alemanno, il mondo di mezzo, oggi la sbarra, la procura chiede giudizio per l'ex sindaco di Roma per corruzione e illecito finanziamento. L'avvocato di Carminati, confidiamo nella soluzione. Andiamo ancora avanti, il caso del piccolo Ruben Napoli, bimbo con due madri, il prefetto annulla l'atto di nascita. Lo ha reso noto la prefettura spiegando che non c'è alcuna proroga concessa al sindaco, contrariamente a quanto era stato fatto sapere dal suo ufficio. Il sindaco De Magistris attende la notifica, noi con la coscienza a posto. In Sicilia, ancora Messina senza acqua, il governo dichiarerà lo stato di emergenza. La decisione del Consiglio dei Ministri, in città, vi è da giorni una situazione di emergenza idrica a causa dei danni provocati da una frana all'acquedotto. E per quanto riguarda la sanità, a scuola solo chi è vaccinato, sì delle regioni, ma serve una legge. Primo via libera della conferenza delle regioni al piano vaccini 2016-2018, presentato dal Ministero della Salute, ma sulla possibilità di vietare l'ingresso a scuola ai non vaccinati serve una legge ad hoc. Il giallo, vediamo a Bari, un agente immobiliare ucciso, indagato un collega, due gli indagati per la morte di Giuseppe Sciannimanico. Freddato lunedì scorso, agenti della squadra mobile hanno ispezionato auto e abitazione di un collega di lavoro della vittima. Alta velocità, insulti ai Notav, esposito rischia una condanna per 134 mila euro dopo la soluzione dello scrittore Harry De Luca per istigazione alla violenza. Ora il senatore PD, sostenitore dell'alta velocità, ha processo per diffamazione, insultò tre attivisti della Val di Susa. La difesa, diritto di critica. E vediamo ancora MSF, i medici senza frontiere, il raid sull'ospedale di Kunduz, condotto per uccidere. Quindi, i medici senza frontiere, presenta il suo rapporto sul bombardamento americano, costato la vita da almeno 30 persone. L'edificio colpito per un'ora, i pazienti bruciavano, i medici venivano colpiti dall'elicottero. Il tutor, questa è la sentenza, inventato a Firenze, ora autostrade rischia grosso. La Cassazione apre le porte a possibile risarcimento da 7,5 miliardi per contraffazione a favore di una minuscola azienda. In Chianti, replica di autostrade, la richiesta di risarcimento e un BOTAD. Uomo muore infettato da un verme ammalato di tumore, cellule tumorali dell'ospite indesiderato, riscontrate nei linfonodi e nei polmoni di un uomo di 41 anni con l'HIV. Gigi D'Alessio ha processo per rapina, aggredì due paparazzi, questa è l'ultima sentenza sul caso di D'Alessio e l'aggressione ai paparazzi, dove appunto il cantante strappò dalle braccia dei tecnici le telecamere. Ed ora passiamo all'edicola con il messaggero, vediamo oggi come apre l'edizione di venerdì 6 novembre, quindi la prima pagina del messaggero. Il messaggero di oggi che apre con in apertura, quindi mafia capitale, pentiti e minacce, prima udienza al maxiprocesso, il legale Carminati parlerà e chiarirà molte cose. Odevain, ho sbagliato, ora collaboro alle manno, chiesto il giudizio per corruzione. In centropagina la fotonotizia, raffica di cancellazioni, migliaia di turisti bloccati, l'Enac più controlli, chiede quindi nella fotonotizia i passeggeri in coda appunto all'aeroporto di Sharma e Sheik. Aereo esploso e allarme attentati, l'incubo di Sharma contagia l'Europa. Vediamo in breve, IMSS, pensioni di dotte e reddito garantito, l'alto là del governo, Boeri a segno di 500 euro per gli over 55, Renzi costi sociali e politici troppo alti. Entriamo all'interno, in primo piano quindi mafia capitale, Carminati parlerò, chiesto il giudizio per Alemanno. Prima udienza al maxiprocesso sul mondo di mezzo, 46 imputati per l'ex sindaco di Roma, accusa di corruzione ma cade il 416 bis. Vediamo ancora il personaggio, in molti a tremare per la mossa del Nero, il suo avvocato non cerca sconti di pena. Chissà Massimo chi vuole tirare dentro, il fratello Sergio avete creato un mostro e queste per quanto riguarda le intercettazioni. Ancora il processone al marcio di Roma tra Pizzini e campagna elettorale. Buzzi in videocollegamento, la moglie guarda lo schermo e dice ma quello è mio marito, il giornalista inglese sulle intercettazioni, come si traduce Tapro come Nacozza. Vediamo nel sommario la Roma ex proletaria e comunista mischiata al forzista a cui Buzzi diceva. Se non t'arrestano diventi premier. Ed ancora i grillini aprono la lunga corsa al dopomarino in tribunale, il PD parte civile deve costituirsi e basta. Andiamo ancora avanti, Odevain ho sbagliato, ora collaboro in aula l'ex vice capo di gabinetto del comune. A Roma non c'è un sistema mafioso, Veltroni e il PD non li ho più sentiti. La missione sul mondo delle cooperative bisogna arrivare a dei compromessi di natura fiscale perché lo Stato non paga. L'intervista di Fiandaca, trattativa Stato-mafia contro Mannino, solo tesi pregiudiziali. Il docente di diritto penale sulla assunzione dell'ex ministro ha dichiarato la sentenza, non dice che l'accordo c'è stato. Ed ancora l'Inps, quindi reddito minimo, gli over 55, tagli alle pensioni più alte, ai disoccupati quindi 500 euro al mese, assegni previdenziali ridotti sopra i 5.000 euro, mannaia su vitalizi e sindacalisti. Ma il governo frena. Per il Ministero del Lavoro proposta inattuabile, non vogliamo mettere le mani nelle tasche dei pensionati. Il retroscena, Renzi freddo sul progetto di Boeri, troppo alti i costi sociali e politici. E la UE, bene la ripresa in Italia, più vicino lo sconto sul deficit, la Commissione rivede al rialzo le stime e apprezza le riforme, soddisfatto il tesoro. Il giudizio definitivo, il 16 novembre, la BCE frena sull'uso della flessibilità. I dubbi della squadra degli economisti di Palazzo Chigi, per finanziare le misure servono molti miliardi. Ed ancora, vediamo in primo piano, paura nei cieli, la grande fuga da Charm, allarme terrorismo dopo lo schianto dell'Airbus russo. Vediamo le compagnie britanniche e tedesche, quindi fermano i voli, come vediamo nella fotonotizia in centro pagina, i voli per il Mar Rosso, migliaia di turisti bloccati nello scalo, per ora nessun cambio di programma per alcuni vettori italiani. L'Enac chiede più controlli. Nel taglio basso, vertice del terrore, big di Al-Qaeda in Siria per azioni comunisti con l'Isis. Vediamo ancora, in primo piano, Putin zittisce Cameron, non parli di attentato, il volo russo esploso, il Cremlino attacca gli inglesi dopo le dichiarazioni del Premier, ma da Washington, anche Obama parla di ipotesi bomba, la valutiamo seriamente. E questa in centro pagina, la fotonotizia appunto con uno dei motori del volo precipitato. Ancora, vediamo, Vatilix 2, ora spuntano i politici, le carte di Terni, telefonate della Ciao Qui, con Monsignor Paglia e Riccardi, tutte le pressioni, i favori e l'ombra dei ricatti. Il fascicolo sarà trasmesso a Roma e in Vaticano, la lobbista e il marito sono indagati per estorsione e intrusione informatica. Ed eccola qui nella foto, nel grande business dei postulatori per le beatificazioni, torna il nome di Don Evaldo, il prete dell'inchiesta sul G8. Andiamo ancora avanti, misteri e conti segreti, Vaticano, la pista dei soldi, Avarizia, il libro di Fittipaldi, racconta il fallimento della riforma delle finanze, le procure e la Banca d'Italia aspettano ancora gli elenchi con i nomi dei correntisti e questi nelle foto i personaggi. Ed ancora in primo piano il centrodestra, Berlusconi dice sì a Salvini e va in piazza, telefonata tra i due, l'ex premier domenica sul palco a Bologna, il leader leghista lo rassicura, nessuno si permetterà di fischiarti. Il Cavaliere convince i big di Forza Italia ma restano i malumori comunali, tornano le ipotesi del debbio a Milano e Meloni a Roma. Grillo, se vinciamo a Roma azzeriamo tutto, ci saranno scioperi, proteste e repulisti nell'amministrazione. Lombardi, se c'è una legge sui licenziamenti nella pubblica amministrazione, licenzieremo. Ed ancora Gabrielli avverte, al giubileo mancano pochi giorni, ma il decreto arriverà soltanto venerdì, il nodo dei poteri. Vediamo nel taglio basso il caso sugli appalti. Dopo l'indagine interna, l'ex CDA Rai non informò i PM. I vertici fanno saltare le prime teste, via libera al bilancio, migliorano i conti, si dimette il direttore degli affari legali. In classe solo col vaccino, sì, delle regioni. Primo via libera al piano 2016-2018, ma serve una norma trattativa con il governo per trovare i 300 milioni necessari. Resta sul tappeto il nodo della responsabilità dei medici, anti-immunizzazione per i quali si ipotizzano sanzioni. Musei, decreto e legge, sciopero selvaggio, addio, ok del Senato, cultura, servizio pubblico come sanità e trasporti. Franceschini, una conquista di civiltà, nodi Movimento 5 Stelle, Forza Italia e SEL. E vediamo nelle cronache invece il bimbo con due madri, stop del prefetto a Napoli, annullato l'atto di nascita, cancellati, doppio cognome e il nome della seconda mamma a posto di quello del padre. Il sindaco De Magistris difende la trascrizione, stiamo già preparando ricorso al TAR, le due donne, la lotta continua. Il provvedimento sopprime le parti non previste dalla legge italiana, il giallo della proroga al comune. Ed ancora vediamo la prima pagina dedicata all'economia, mossa antiscalata di Telecom Italia, via libera unanime del CDA a convertire le azioni di risparmio diluite. Al 14% la quota vivendi, al 7% quella potenziale di Niel. La proposta presentata da Recchi, la di Patuano era all'oscuro, maratona di 8 ore per approvare anche i conti a fine settembre. La sentenza, vecchie lire, la consulta boccia, la prescrizione anticipata fu il governo Monti a tagliare di tre mesi la conversione in nuovi scenari per chi ha ancora le vecchie banconote. Che ricordiamo dal dicembre 2011 non può essere più cambiata in euro. Ed ora ci fermiamo con la segna stampa per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di abruzzometeo.it e abruzzometeo.org a cui do il personale. Buongiorno, buongiorno Giovanni. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, quali aggiornamenti per la giornata di oggi e come sempre un'anticipazione per questo weekend in arrivo? Sicuramente buone notizie Elisa perché come avevamo già anticipato nei giorni scorsi la nostra penisola sta per essere interessata da una vasta area di alta pressione che determinerà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni. Quindi anche in Abruzzo è previsto il bel tempo ad eccezione delle prossime ore quando comunque ci saranno ancora residui annumolamenti soprattutto sulle zone montuose durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio. Quindi qualche annumolamento in più sulla Marsica, sull'Alto Sangro e sulle zone montuose ma in attenuazione in serata e in nottata perché poi già da domani l'alta pressione in rinforzo sulla penisola iberica, sulla Francia e su gran parte del Mediterraneo occidentale quest'area di alta pressione si adagerà gradualmente verso la nostra penisola e garantirà appunto come anticipato poco anzi tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulla nostra regione almeno fino alla giornata di mercoledì. L'alta pressione favorirà anche un aumento delle temperature soprattutto però qui è opportuno specificarlo sulle zone collinari e montuose mentre per via delle inversioni termiche in pianura, nelle pianure e nelle valli comunque le temperature si manterranno piuttosto basse soprattutto al primo mattino con possibili formazioni nebbiose. Inicialmente nelle principali valli della nostra regione soprattutto sul settore occidentale ma poi già da domani ma ancora più nei prossimi giorni banchi di nebbia molto probabili anche lungo la fascia costiera e nelle pianure che si affacciano sul versante adriatico. Quindi sarà bel tempo, ci sarà bel tempo sì ma ci sarà anche l'insidia della nebbia. Attenzione questo è opportuno segnalarlo. Quindi Elisa poche novità nei prossimi giorni. L'alta pressione continuerà a dominare in contrastata sulla nostra penisola almeno fino a mercoledì e non si prevedono sostanziali variazioni Elisa. Bene, grazie Giovanni. Ti auguro quindi una buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie Elisa. Una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Io ricordo che per essere sempre aggiornati potete visitare il sito abruzzometeo.it abruzzometeo.org curato assolutamente sempre puntuale da Giovanni De Palma oppure potete visitare il profilo Facebook di Abruzzo Meteo o il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande, insomma essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria. Tra poco. Seconda parte di Mattino 6. Continuiamo la nostra rassegna stampa ma passiamo alle notizie regionali. Vediamo il centro, le prime pagine delle quattro edizioni iniziando con l'edizione di Pescara che apre con un veto a Stadio e Ponte del Cielo. La sovrintendenza da parere negativo ai due progetti comprometterebbero il paesaggio urbano. Il pontile bocciato anche perché oscurerebbe la vista del mare dalla nave di Cascella. In centropagina recuperata la barca a vela affondata dopo lo scontro a un miglio dal porto turistico. E ancora senza tetto anche sui treni. In 25 sono stati sorpresi dalla polizia a dormire nei vagoni. Vediamo nelle cronache. Zebre pericolose a Pescara, strisce pedonali sbiadite in tutta Pescara. I personaggi, vediamo l'ex premier belga di Rupio in casa, parlavamo abruzzese e ancora batteri che puliscono gli affreschi, lo strano allevamento di Ranalli e di Nicola si raccontano, sono un diavolo, la Lega Pro è in marcia. Verso il voto in Francavilla, rapino del PD, il nostro sindaco è Luciani. Passiamo ora alla edizione dedicata invece alla provincia di Chieti, alle province di Chieti Lanciano e Vasto. Vediamo la prima pagina del centro che apre con l'inchiesta sulla morte di Dorazio a Chieti esposto dei familiari del titolare del Caffè Vittoria. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo, la procura fa sequestrare le cartelle cliniche, dispone che un medico le esamini. In centropagina Angelini Maridotto, i tifosi attaccano gli amministratori comunali di Primio Pomponi, nelle foto si va verso l'accordo. Tribunale, ingresso e incontro segreto, Chieti, cantiere sospeso, intesa sull'uso degli uffici già finiti. Vediamo nelle cronache furti a raffica in Chieti a Lanciano, razzia nelle case di Chieti e del Frentano, i personaggi li abbiamo già visti. In Ortona, ancora, parto in casa con il 118 al telefono, Farafilorium Petri. Vediamo l'edizione dedicata invece alla provincia di Teramo, oggi che apre con la tragedia dello schianto in auto, muore a 23 anni, a Sant'Egidio alla vibrata, la macchina della vittima si è ribaltata. In centropagina vediamo l'auto ribaltata nell'incidente ed ancora a casa tre mesi, 140 operai, l'atria ferma la produzione per smaltire il magazzino. Nelle cronache in Teramo, lavoro nero in calo, ma più trucchi fiscali. Questi dati dalle nuove ispezioni, in Val Vibrata nasce il movimento dei sindaci, cambia così la politica. Vediamo adesso l'edizione dedicata alle province di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, che apre con Cialentesi in furia via De Santis, l'assessore IDV licenziato dal sindaco per le accuse alla guida del comune. In centropagine il programma della giornata aquilana del presidente, il 16 in Mattarella farà tappa anche alla casa dello studente e a Onna. Togliete la sorgente a Colella, canistro regione nel Mirino per la concessione all'imprenditore arrestato. Nelle cronache in L'Aquila, Raide dei ladri, nelle case di San Demetrio ed ancora in Sulmona, cani antidroga per i controlli nelle scuole. Ed ora passiamo invece al quotidiano della provincia di Teramo, la città. Vediamo oggi cosa riporta in apertura. Eccoci nella prima pagina della città, muore nello schianto contro un palo. Incidente stradale a Sant'Egidio, la vibrata Federico Palantrani perde la vita nel suo furgone a 23 anni. In centropagina l'amico del Belgio ad Ateneo, laurea ad Onorem all'ex primo ministro Elio Di Rupo. Mastro Mauro vuole l'azzeramento e il sindaco di Giulianova sottopone il progetto al partito. In breve, bar sfrattato per fare posto alla mensa dei poveri, Spinelli a scuola, genitori infuriati, alla Noi Lucidi. Il Comi non vuole spostarsi al Pascal. Entriamo all'interno, vediamo le notizie più nel dettaglio. Quindi a Chieti, la provincia di Chieti non si presenta in TV, assenza ingiustificata dell'istituzione durante il programma Mi Manda Rai 3 sulla tragedia dei fratelli d'Imperio. Canistro di Nicola, un tavolo per parlare del caso Santa Croce. In basso, costruzioni a Teramo, asfalto riciclato, anche la A24 testerà la nuova pavimentazione. Il convegno recycle di lega ambiente punta ad un riutilizzo dei materiali e dei rifiuti aggregati per ridurre le emissioni. Ed ancora lutto in provincia. Le istituzioni rendono omaggio ad Agostino. Anche Legnini e D'Alfonso, assieme a decine di sindaci, visitano la Camera Ardente allestita nella sala consigliare. Giovanni Legnini era una persona di grandi qualità che ha dedicato tutto se stesso ai dessini della sua terra. Su questo articolo ci fermiamo per vedere il contributo video realizzato ieri mattina durante la visita di Legnini e D'Alfonso e di tanti altri sindaci e amici. Per l'ultimo saluto ad Agostino. Amici, compagni di partito, ex avversari politici. Continua senza sosta il via vai di persone a Teramo per l'ultimo saluto ad Ernino D'Agostino, ex presidente della provincia di Teramo, scomparso ieri prematuramente. L'ultimo saluto oggi a Ernino D'Agostino. Con quali sentimenti principalmente? Di grande commozione, di affetto, di ricordo di una persona straordinaria che ha dato tutto se stesso alla vita pubblica, alla collettività, all'impegno politico. A lui mi legavano rapporti di stima, di amicizia profonda, di comunanza, di militanza e quindi insomma è un dolore fortissimo quello di oggi. La grande partecipazione è anche un segnale molto di vicinanza da parte di tutti. È un grande riconoscimento di un percorso di vita di cui lui e i suoi, ma tutti i cittadini possono essere fieri. Fa pensare molto la sua fine. Fa pensare sul fatto che non c'è tempo a volte per riprendersi il tempo che si è tolto la famiglia. Credo che si possa dire che lui ha donato tutto ciò che aveva all'impegno politico e all'impegno pubblico in questa fase che magari poteva restituire un po' alla sua famiglia dal punto di vista del tempo. Il tempo non c'è più. Cosa dire per fare in modo che lui si guadagni per intero la memoria collettiva come la merita? Una persona sobria che tendeva a semplificare anche quando il problema era complesso, capace di mettere insieme persone anche di pensiero diverso, ha dedicato tutto se stesso all'impegno pubblico. Per questo è bene il ricordo che stiamo facendo e anche l'onoranza funebre che abbiamo contribuito ad attivare. Io ho voluto testimoniare la vicinanza della regione perché è la vicinanza di uno stile di vita e anche ad una donazione di sé rispetto alle questioni collettive. Questa mattina, così come riporta l'articolo della città a Santa Maria degli Angeli, a San Nicolo a Tordino, nella chiesa di San Nicolo a Tordino, sono previste centinaia di persone per l'ultimo saluto a Dernino D'Agostino. Andiamo avanti Elio Di Rupo, ambasciatore d'Abruzzo ad Onorem, dopo Pannella e De Cecco, l'ex ministro di Stato belga, insegnito della laurea dell'Università di Teramo. Queste le foto riportate in questo articolo della cerimonia che si è svolta ieri e anche qui ci possiamo fermare per vedere il contributo video. Grazie. Applausi. Applausi. Grazie a tutti. Il mio padre è morto, non sapeva scrivere e leggere e mi ha sempre parlato in abruzzese. Noi parliamo in francese, ma lei è sempre in abruzzese perché io ho perduto mio padre che aveva un anno. E dunque è stata un'immigrazione molto difficile, ma con la mia madre e il sistema sociale belga abbiamo trovato delle soluzioni, ho potuto fare delle studie, ho potuto giocare un ruolo importante in Belgio e questa riconoscenza è una riconoscenza per la mia madre e per i migranti italiani. Immigrazione, miseria, lotta e rinascita, la storia di Dilupo si legge come un romanzo epico. I suoi genitori, contadini mezzadri, sono partiti da San Valentino in Abruzzo nel 1947 per andare nel Belgio a fuggire dalla povertà, come allora tante altre famiglie abruzzesi. Indicare l'onorevole Dilupo come esempio per i nostri studenti, è un esempio che vorremmo indicare con forza loro perché è l'impegno di una vita spesa per l'affermazione di giustizia di libertà, di giustizia sociale, di tolleranza e ci piacciono enormemente. La situazione dell'immigrazione nell'Europa di oggi è cambiata tantissimo, forse anche molto in peggio rispetto agli anni passati, quella che poi ha vissuto lei. È vero, ma non c'è soluzione altra che avere la collaborazione e la volontà di trovare soluzione. Se rimaniamo in confronti non c'è soluzione e non c'è soluzione per gli italiani, per i belgi, non c'è soluzione per i migranti. Dunque abbiamo bisogno di integrare e da lavorare. Quello dipende non soltanto del governo italiano, ma dipende piuttosto dell'Europa. E dobbiamo lavorare a livello europeo perché abbiamo bisogno di crescita economica. E noi abbiamo bisogno di un'Europa che dà più possibilità di crescita economica. Con l'immigrazione è meglio lavorare insieme che cercare i confronti perché con i confronti non si va mai davanti. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, la protesta di quattro classi dell'Istituto di Ragioneria. Noi del Comi non ci spostiamo da Viale Bovio, no, al trasferimento alla Cona con i programmatori. Lavori anticipati, un'ala dello stabile non è a norma, ma serve una sede per l'Istituto Musicale Gaetano Braga. Vediamo nel servizio, nel dettaglio, perché la protesta dei ragazzi. Restare nella struttura storica dell'Istituto Tecnico Vincenzo Comi è quello che innanzitutto chiedete e spieghiamo il perché. Vogliamo rimanere in questa sede, in questa scuola per delle motivazioni ben valide. Innanzitutto perché siamo stati un po' ingannati, perché ci hanno detto che comunque dovevano iniziare dei lavori, per cui dovevamo spostarci nella sede del Pascal. Veniamo a sapere dai giornali che i lavori forse inizieranno a giugno e che noi dobbiamo spostarci da questa sede per andare al Pascal perché nel frattempo devono parcheggiarci un'altra sede, che è il Braga, un conservatorio musicale. A noi questo non sta bene perché dal momento che ci viene detto che dobbiamo spostarci per dei lavori, noi tenendo molto l'Istituto lo facciamo in maniera completa, ma dal momento che ci veniamo a sapere che l'Istituto verrà occupato da un'altra scuola, lì l'Istituto, compresi tutti gli alunni e alcuni professori, sono d'accordo alla protesta. Quindi questo è quello che richiediamo noi. Noi continueremo in protesta e l'Istituto è d'accordo con noi per far restare qui l'indirizzo turistico. Se non avremo risposto continueremo sicuramente senza dubbio la protesta perché avere dei chiarimenti a riguardo è un nostro diritto. Dunque domani andremo anche alla provincia a richiedere un appuntamento per vedere se possiamo parlare comunque con chi di dovere e quindi che possa spiegarci la situazione, come realmente stanno i fatti, perché giustamente da una parte ci dicono che questo istituto verrà chiuso per i lavori, solo per i lavori esclusivamente, e da un'altra parte ci dicono che invece è destinato ad accogliere un altro istituto. Dunque per fare chiarimenti su questa situazione, per fare chiarezza abbiamo bisogno di spiegazioni. Quindi continueremo e porteremo avanti la protesta. Andiamo avanti con la città. Tutta un'altra piazza con l'atterrato basso. Lunedì inizia la posa della pavimentazione attorno alla chiesa. 1,2 milioni da spendere entro l'anno. Impianti sportivi. L'Asi si aggiudica il minibando per la piscina dell'Acqua Viva. Caffetteria sfrattata per fare posto alla Caritas. Smantellato il locale in via Vittorio Veneto. La Movida lascia spazio alla mensa per poveri e migranti. Convivenza difficile. Spinelli alla Noe Lucidi. Protesta contro i migranti. Andiamo ancora avanti. Vediamo in provincia Castilenti. Maccaferri. Primo tavolo di confronto. Incontro tra azienda, confindustria e sindacati. I dipendenti vogliono sapere quale sarà il destino del loro posto di lavoro. Campli torna alla luce a casa di Loris Gabrielli grazie alla colletta. Su Facebook un gruppo di amici raccoglie i 260 euro necessari per pagare la bolletta dell'Enel per l'invalido di Villa Camera. Montori Alvomano autodromo. I pentastellati attaccano dichiarate falsità per evitare la VAS. Secondo il documento dell'Arta, la zona di San Mauro non era l'area più idonea per la costruzione. Ed ancora vediamo a Sant'Egidio. Muore a 23 anni contro un palo. Federico Palantrani di Sant'Egidio ha perso il controllo del furgone sulla strada provinciale 2. Martinsicuro. Nascondono l'eroina dentro al cuscino. Coppia di pusher finisce in manette. Sicurezza, furti, Viviani chiede maggiori controlli al casello A14. Il PD di Alba chiede di estendere la competenza dei controlli della stradale. Nereto, auto in fiamme per cortocircuito di fronte a una lavanderia. A Sant'Egidio ancora Massimo Oddo visita il maglificio. Gran Sasso, il mister del Pescara, è tornato ieri nella cittadina dove ha allenato il padre. Ed ancora Giulianova, ex Saddam, il sindaco prepara la diffida. Ritardi pesanti della società sui lavori e mancato rispetto delle scadenze. Per la politica, nuova giunta, Mastromauro porta l'idea a zeramento davanti al partito. Il dibattito, Mosciano ricorda i caduti della prima guerra mondiale con Gigi Ponziani. Ed ancora Giulianova, trovata la casa alla famiglia sfrattata con tre bambini. Il canone d'affitto sarà pagato per metà utilizzando il fondo di solidarietà comunale messo in atto. Ricordiamo dal sindaco lo scorso anno. Roseto, Ciancaione è pronta alla candidatura. Mi sento ancora del PD ma non posso condividere le decisioni del circolo. Silvi, SEL chiede di scegliere i scrutatori tra i disoccupati, un metodo di selezione già utilizzato in diversi comuni della provincia di Teramo. Pineto, festa dell'autunno in attesa del San Martino. Ed ancora Silvi, rilanciare il turismo creando una strada dedicata alla Movida. Il sindaco Comignani sarebbe d'accordo e l'assessore all'urbanistica avrebbe già individuato la zona più adatta. Cultura, vediamo lo psico-navigante del pensiero, vario a sonda me stesso. L'arca ospita la retrospettiva di Antonio Marchetti. Ed ora torniamo al messaggero per vedere le pagine dedicate alla nostra regione, quindi la prima pagina dedicata all'Abruzzo. Vediamo in apertura il messaggero, apre con Cialente Caccia De Santis, l'Aquila decisione improvvisa dopo le critiche dell'assessore. Adesso la giunta comunale è in bilico, l'IDV. Il sindaco vuole andarsene la replica, votano contro, la responsabilità è loro, la città lo sa. Ed ancora la trattativa, solo 65 volontari carichietti al bivio per tagli ed esuberi. Per raggiungere il tetto delle 135 uscite chiesto dai commissari, bisogna ancora sfoltire. E il progetto, in centro pagina la fotonotizia stop dalla sovrintendenza, fondi a rischio, pescare a bocciato il ponte del cielo. Entriamo all'interno, salva regioni, ma non troppo, Paolucci bussa al governo, l'assessore, il decreto non basta, troppi tagli e c'è il rebus disavanzo. Consiglio, il parco dei trabocchi adesso è realtà, via libera unanime in funzione anti-ombrina. Vediamo ancora l'Aquila, mattinata blindata per il vertice in preparazione della visita di Mattarella. Ecco la prima pagina dedicata all'Aquila, quindi la politica, caccia lente e caccia dei Santi, serie di crisi in municipio, la decisione dopo la conferenza stampa in cui l'IDV ha attaccato l'amministrazione senza i due consiglieri ex di Pietristi, il sindaco non ha la maggioranza. Vediamo il contributo video anche su questo articolo, contributo video di Germana Dorazio. Non è andata giù al sindaco dell'Aquila Massimo Cialente che le critiche sui fannulloni in comune fossero state mosse dall'assessore della sua stessa maggioranza e così all'indomani il sindaco dell'Aquila ha ritirato le deleghe all'assessore dell'Italia dei Valori Lelio De Santis. C'è stata proprio ieri una conferenza stampa dell'IDV con a capo l'ormai ex assessore che diceva che per l'Italia dei Valori la misura era colma o i dirigenti e i dipendenti fanno il proprio dovere o l'amministrazione del sindaco dovranno prendere misure adeguate come ruotare i responsabili dei settori o tagliare i premi di produzione. Non aveva fatto sconti l'ex assessore al bilancio del comune dell'Aquila Lelio De Santis che pur riconoscendo la buona volontà e l'onestà di tanti dipendenti si era scagliato contro quelli che di lavorare proprio non ne hanno voglia o lo fanno male. Ben vengano aveva detto le azioni della magistratura per fare chiarezza e pulizia ma non si può per questo bloccare un comune che ha di fronte una sfida enorme come quella della ricostruzione aveva detto l'ex assessore al bilancio Lelio De Santis Canistro, niente conseguenze per lo stabilimento Santa Croce la patron Camillo Collella ha finito i domiciliari per evasione siamo in regola con i dipendenti e i clienti il sindaco di Paolo non si fida dell'imprenditore molisano e attacca la regione per la definitiva concessione illegittima vediamo in breve a Prato la blizza antidroga davanti a due istituti superiori a Luco De Marsi in Marocchino trovato accoltellato all'addome Sulmona aggredito da sei cani, cinquantenne grave all'ospedale sempre a Sulmona, fuoco un bus, paura sull'autostrada uso delle auto di servizio, autista chiede di patteggiare uso delle auto in servizio, l'autista è della provincia Avezzano, avvocati, Colucci, presidente andiamo ancora avanti, prima pagina dedicata a Pescara Ponte del Cielo colpito e affondato la sovrintendenza annuncia il parere negativo all'opera esclude la vista del mare e impalla la nave di Cascella il no gela il progetto del comune dieci giorni per replicare ai rilievi ma gli spazi di manovra sembrano molto ristretti l'inchiesta H, cene e viaggi a spese dell'azienda ed ancora la cultura povera senza stipendio da tre mesi lavoratori del Genti d'Abruzzo l'ordinanza Excelsior Gazzebo Abusivo l'ha scoperta dopo 14 anni operazione fiducia a parte la vaccinazione contro l'influenza l'ASL punta a recuperare il 20% di copertura perso l'anno scorso per la paura scatenata da ritiro di due lotti di flaude grandi manovre, chirurgie di spatocco verso Pierangeli ecco gli accorpamenti della sanità privata andiamo ancora avanti la politica assente porta a ronde e fucili la psicosi dei furti e l'effetto far west per Antonello Canzano il legame e la mancanza di risposte da parte delle istituzioni il politologo dell'adannunzio autore dello studio che colloca i furti nelle abitazioni al primo posto tra le paure dei pescaresi l'avvertenza punto nascita senza ambulanze non si chiude il sindaco di Penne protesta per la mancata attivazione del servizio di trasporto delle future mamme tasse, le pigrizie dei comuni frenano la lotta all'evasione ed ancora nonni vigilanti in pensione, in campo il volontariato prima pagina dedicata a Chieti parco fluviale si cercano rifiuti sepolti e inquinanti alla via il piano delle indagini dietro a Megalò il giallo morte di Dorazio scatta l'inchiesta cartelle sequestrate c'è un esposto dei familiari del noto pasticcere l'operazione furti all'Inps e in procura arrestato ladro seriale assalto dei ladri nella villa dei Tenaglia in Ruzione mercoledì alle 21.30 al piano terra c'erano il decano degli avvocati Domenico e la moglie non hanno sentito nulla i banditi sono saliti da una grondaia fino al primo piano e hanno ripulito la zona notte l'allarme non era attivato basto frecciabianca gli operatori si mobilitano per il 2016 in breve lanciano violenze sulle donne altri due processi basto migrante trova e restituisce portafogli ad Ortona parcheggi la gestione torna al comune a Lanciano Corso Trento e Trieste a gennaio via ai lavori alla fine la spuntata all'assessore all'urbanistica Pasquale Sasso costo 1,3 milioni pagina dedicata a Teramo la protesta al Comi nonno al traslogo possiamo stare con il Braga oltre 70 ragazzi del liceo turistico spostati al Pascal sciopero altranza in Viale Bovio l'arrivo della scuola musicale non è immediato perché dobbiamo andare via ora il progetto chiodi la fondazione di comunità ed ancora vediamo il caso no agli immigrati adulti a scuola con i bambini alla scuola Noeluci di Lila delle Madri Romanelli nessuno ha chiesto il permesso al comune Martinsicuro droga anche sotto l'anello due arresti della polizia e vediamo nel taglio basso la festa in Ateneo di Rupo laurea ad honorem la vittoria di un emigrato l'ex premier come abbiamo visto belga parla di Coccia buato in aula l'elogio di D'Alfonso così si diventa classe dirigente le ronde della salute contro i furti nasce Roseto Cammina da un'idea già avviata a Pineto passeggiate notturne con itinerari diversi per controllare vandali e malviventi le statistiche dei reati contro il patrimonio dicono che in città il trend è in discesa dai mille colpi del 2013 ai 730 di quest'anno Giulianova ha svaliggiato anche un negozio appena inaugurato ad Albadriatica svincolo autostradale servono più controlli Giulianova sia la settimana corta ma ancora non c'è la data ed ancora vediamo a Roseto visitroseto.it che flop il sito è vuoto andiamo adesso alla pagina sportiva di Abruzzo Sport vediamo il calcio di serie B Bruno cuore e polmoni all'esperto mediano del Pescara la partita di Novara non è ancora andata giù perdere in quel modo mi fa girare le scatole la ternana arriva carica mille dovremo farci trovare pronti e su questo articolo vediamo anche il centrocampista che dichiara non sono ancora riuscito a far vedere il vero verre e lo verre che ascoltiamo in questo servizio è stata una partita è stata una partita difficile anche perché si giocava su ritmi alti soprattutto sull'agonismo non era una partita tecnica come noi desideriamo però è andata così ci è mancato qualcosa in più per portare quell'episodio dalla parte nostra che invece è accaduto a loro e dopo aver subito il gol abbiamo fatto bene ma potevamo farlo dall'inizio ma questo diciamo che è una sconfitta che ci aiuterà a crescere quindi già contro la ternana daremo tutto per vincere ma era una partita strana perché si giocava molto sulle seconde palle spesso loro arrivavano sempre prima e quindi di solito in queste partite la squadra che arriva sempre prima su questi episodi alla fine la porta a vincere però diciamo ecco è stata una partita che ci deve insegnare e lo dobbiamo prendere come una partita che la possiamo risfruttare in avanti ma io penso che questa squadra è fortissima è fortissima e non solo gli undici titolari perché alla fine non ci sono perché il mister cambia cambia molto cambia spesso e fa entrare sempre anche i giocatori diversi quindi credo che possono giocare tutti tutti i titolari non c'è bisogno che che si ferma il campionato perché io Rolli o magari Memosciai andiamo in nazionale ci sono altri anche altri centrocampisti anche in altri ruoli dove ci sono grandi giocatori quindi non ce n'è bisogno questa è stata diciamo una partita in cui è andata così ci sta quindi pensiamo subito alla prossima poi noi andremo anche in nazionale ma sono sicuro che faremo bene anche a compi l'abbiamo visto che quando squadre di diciamo di certo livello magari vengono qui a pescare per difendersi e ripartire come con la Provercelli poi siamo stati bravi a sbloccarla però vengono qui e si difendono poi è anche una squadra molto difficile da affrontare noi la stiamo preparando con il piede giusto quindi penso che faremo bene ed ancora vediamo in basso sempre serie B Falcinelli Lanciano si salverà anche quest'anno il bomber rappresenta il suo derby del cuore Perugia Virtus due squadre cui devo tanto Calcio Lega Pro l'Aquila con il tridente Milicevic migliora ed ancora vediamo le noci questo Teramo è davvero un bel gruppo e noi ascoltiamo invece per il Teramo Calcio Tommaso Dorazio le sue dichiarazioni ci stiamo compattando ancora come squadra quindi ci sta purtroppo dicendo male che subiamo subito andiamo subito in svantaggio ma secondo me è solo questione di tempo perché ogni settimana lavoriamo per migliorarci e penso che pian piano verremo fuori anche da questa situazione diciamo che io sono andato come terzino quindi l'ha sempre fatto tutta la fascia non tutta fascia però mi sono sempre trovato bene sulla fascia e naturalmente questo è il ruolo nuovo per me perché come hai detto tu mi trovo a fare tutta la fascia però pian piano mi sto trattando bene non mi dispiace come ruolo ma quest'anno probabilmente col fatto che più spinta arrivo più sul fondo e più in avanti potrei avere qualche possibilità in più l'anno scorso guarda ti dico l'anno scorso c'è avuto quattro occasioni cioè non ho mai tirato più di quattro volte in borta quattro gol ho fatto quindi sono stato anche fortunato però il importante è trovarci di là l'Arezzo sicuramente è una buona squadra e sapendo avuto un percorso non facile diciamo che non sta facendo benissimo poteva fare di meglio e naturalmente noi sappiamo che non sarà una partita facile domenica che voto che voto dai al terreno che ha giocato nove dai un po' più di un mese voto un un sei e mezzo perché venendo ti ripeto da una situazione come perché è rimasto quest'estate psicologicamente non è stata facile poi il fatto che abbiamo dovuto giocare tutte queste partite in un mese quindi voglio dire venirne fuori non è mai facile ma non è una scusante però voglio dire che non è mai facile ed ancora in centro pagina per quanto riguarda il calcio di serie D striscioni nella notte il sindaco no ai ricatti a Chieti tensioni dopo l'annuncio di Pomponi di portare la squadra a giocare il derby a Ortona di primio il sindaco servono rispetto e lealtà si prova comunque a riuscire a ricucire lo strappo oggi alle 11 conferenza stampa congiunta comune società appunto a Chieti ed è tutto per la rassegna stampa di oggi mattino 6 termina qui ringrazio a tutti per l'attenzione vi auguro una buona giornata per la rassegna per la rassegna per la rassegna per la rassegna per la rassegna